Il presidente dell'Ocse, Mattias Korman, ha oggi comunicato le stime di crescita economica per l'anno in corso e per i prossimi due anni, ossia per il 2022 e il 2023. I dati sono davvero lusinghieri per l'Italia. Per l'anno in corso l'Ocse, per il nostro Paese, stima una crescita del PIL del 6,3%. Certo, non si recupera quanto perso nel 2020, tuttavia è una crescita superiore alla media dei Paesi aderenti all'Ocse, che si ferma al 5,5%. E anche nei prossimi due anni la crescita sarà sostenuta. Si stima un aumento del PIL del 4,6% nel 2022 e del 2,6% nel 2023. Dati questi leggermente migliori della media dei Paesi aderenti all'Euro, la cui crescita sarà rispettivamente del 4,3% e del 2,5%. Certo, c'è anche chi fa meglio. La Francia, ad esempio, nell'anno in corso vedrà crescere il proprio PIL del 6,8%. Ma il Paese che farà segnare il maggior aumento della propria economia sarà la Gran Bretagna, che vedrà crescere il proprio PIL nel 2021 del 6,9%. Forse quest'ultimo dato vi potrebbe stupire, dopo che ci hanno detto in tutte le maniere che la Brexit avrebbe penalizzato enormemente l'economia della Gran Bretagna. Insomma, vederla ora in testa alla classifica della crescita economica fa sorgere più di qualche dubbio su quanto i media ci avevano raccontato dopo l'abbandono dell'Unione Europea da parte dei sudditi della regina. Naturalmente Corman, il presidente dell'Ocse, non ha mancato di sottolineare che Omicron potrebbe mandare un po' in fumo tutte queste previsioni. Oltre alla crescita economica e quindi al PIL, sono state comunicate anche le previsioni sui principali indicatori macroeconomici. Buone notizie anche sul forronte dell'occupazione. In Italia il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere dall'attuale 9,6% all'8,9% nel 2022 e all'8,4% nel 2023. Purtroppo, però, come sapete, il tasso di disoccupazione viene calcolato sulla parte di popolazione che è in cerca di lavoro. Quindi non tiene conto di chi, ormai dopo averle provate tutte, non è neppure in cerca di un'occupazione. E come sappiamo si tratta di una fascia di popolazione insomma sempre più numerosa. Le notizie negative invece arrivano dal lato dei prezzi. L'inflazione infatti nel 2022 salirà dal 3,9% al 4,4%. Per vedere una crescita del costo della vita di questi livelli su questi livelli occorre tornare indietro di molti anni. segnale questo inequivocabile che quello dell'inflazione sarà un tema caldo per i prossimi anni. Ormai la bugia che la crescita dei prezzi sarebbe stata di breve, anzi di brevissima durata, è una bugia che è stata del tutto smascherata. Anche gli economisti mainstream hanno più volte ribadito che l'inflazione sarà di una certa durata e dovremmo quindi rassegnarci a vedere salire i prezzi dei beni e dei servizi. D'altronde io l'ho ribadito più volte. La causa principe dell'inflazione è la sovraemissione monetaria. E in questi anni, non parliamo poi dell'anno scorso, quanta moneta in eccesso è stata prodotta soprattutto dalle banche centrali? È chiaro che se all'emissione monetaria non si associa la produzione, quell'emissione monetaria è di fatto una sovraemissione e quindi non potrà che creare altro che inflazione. Un'inflazione che fino a pochi mesi fa si notava solo sui mercati finanziari, perché appunto la sovraemissione monetaria di fatto finiva lì, principalmente finiva lì, ossia sui mercati finanziari. Ed oggi invece, oggi intacca anche le materie prime, quindi la cosiddetta economia reale. Però in conclusione di questo video, una domanda dobbiamo porcela. L'Italia che nell'anno in corso cresce del 6,3%, insomma questo incremento del PIL del 6,3% è un dato attendibile. Certo, nello scorso anno, non dimentichiamolo, abbiamo avuto mesi interi nei quali la nostra economia si è letteralmente fermata, quindi salire del 6,3% rispetto a un anno, diciamo, totalmente anomalo, a un anno balordo come il 2020, è credibile. Tuttavia, ragioniamoci sopra, ovviamente prendendo in esame i dati ufficiali, quelli che fornisce l'Ista, perché se quei dati fossero taroccati non avrebbe senso fare tutte queste analisi. Allora, nel 2020 il nostro PIL è sceso dell'8,9%, ai prezzi di mercato sarebbe un meno 7,9%, ma comunque insomma, quindi è stato di 1653,557 miliardi di euro. Allora, le previsioni dell'Ocse per l'anno in corso erano a metà anno, insomma, per un più 4,5%. A settembre scorso, sempre l'Ocse, ha innalzato le previsioni di crescita al 5,9%. Già questo è un dato, direi, più che sorprendente, cioè aumentare le previsioni di crescita dell'1,4%, ossia dal 4,5% al 5,9% in soli due mesi, beh, è qualcosa di assolutamente anomalo. Cioè, in pratica ci si deve chiedere, ma allora, si era sbagliato prima a sottovalutare la crescita del PIL quando si diceva che era il 4,5% oppure si è sbagliato dopo a sopravvalutarla, appunto, quando si è portato la stima al 5,9%. Cosa è accaduto in quei due mesi estivi per far crescere così tanto, appunto, le stime di crescita? In un tempo brevissimo. E ora, a due mesi di distanza, da settembre, diciamo, a fine novembre, vengono ulteriormente riviste al rialzo le stime di crescita al 6,3%. Beh, insomma, francamente a me sembra davvero tanto. Comunque, questi sono i dati. Io mi auguro che siano veritieri, anche se qualche dubbio mi rimane.